Assessore, è una riapertura molto importante sia per gli operatori economici che per i turisti, tra l'altro ANAS ha accolto anche il vostro appello. Sì, è una bella notizia, un bel regalo di Natale per le nostre comunità, io dico non solo per la provincia di Piesolurbino, Fano e la provincia di Perugia e Gubbio, ma per l'intero centro Italia. Dobbiamo sfruttare ancora di più questa potenzialità che abbiamo di essere un asse di collegamento tra il mare Adriatico e il mare Tirreno, tra i Balcani e la penisola iberica, con il porto d'Ancona, con la terza città delle Marche, Fano, con la Fano Grosseto, ma anche con la Contessa e la Flaminia, la nostra superstrada che poi raggiunge Gubbio e da lì possiamo raggiungere la capitale. Da 16 mesi di lavori preventivati, ANAS ha ridotto ad 8 mesi, raccogliendo l'appello della regione Marche, con i doppi e terzi turni di lavori, la sostituzione del viadotto sulla Contessa e la sistemazione della galleria in sicurezza. Ciò significa che da ieri si può ripercorrere questa strada in tutta sicurezza e con maggiore velocità verso Gubbio e verso la capitale. Stiamo scontando gli errori del passato, ha dichiarato che cosa intende? Questa strada fu declassata nel passato da strada come asse primario di viabilità della nostra regione del centro Italia a asse di viabilità secondaria, quindi mancanza di investimenti per decenni che comporta oggi una serie di investimenti di decine e decine di milioni di euro per rigenerarla. Ma nel piano delle infrastrutture della regione Marche, adottate qualche settimana fa dalla giunta Acquaroli, abbiamo riportato la Fano-Cantiano-Gubbio fra gli assi primari della viabilità marchigiana del centro Italia. Questo significa che noi vogliamo uno sviluppo non solo per rigenerare completamente la strada, ma anche per interventi puntuali di rettifica, perché la renda sempre più sicura e veloce per gli interessi della nostra costa e di tutti i territori interni della nostra regione. I prossimi progetti, Assessore? Grandi investimenti per il territorio della provincia di Pesaro-Urbino, che paga un gap infrastrutturale notevole, che quindi fa ritardare lo sviluppo della nostra economia, che è pur forte, perché i nostri artigiani, i nostri commercianti, i nostri imprenditori, le forze vive della provincia di Pesaro-Urbino sanno rimboccarsi le maniche anche di fronte a questi disagi. Ma non possiamo tardare oltre. Va recuperato quel gap infrastrutturale e il piano delle infrastrutture Marche 2032 prevede molti investimenti che risolveranno problemi di viabilità, non solo sulla costa, ma anche nell'entroterra, in una sinergia che porterà la provincia di Pesaro-Urbino ad essere uno dei train del PIL della regione Marche.